Pronto, ci sei? Io ci sono. Beh, allora, 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 ascolta bene, è confermato domani pomeriggio 21 marzo sabato alle 16. Sì, no, 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 come eravamo rimasti d'accordo, tu hai detto domani sabato 21 marzo alle 4 e io alle 4 mi sono regolato. È alle 16. Ma non è più alle 4? No, è alle 4. Alle 4 e alle 6. Alle 16? Perché, ma veramente, scusa, ma se tu dici 4 sono le 4 di notte a M, invece se tu dici alle 16 si capisce che PM. Vabbè, alle 4, noi si dice sempre alle 4 o di pomeriggio, no, sempre alle 4 sono. Vabbè, allora, io dico alle 16 PM. E io che dico? Alle 16 PM. Allora, noi col PM ci vediamo alle 16 21 marzo. in Tiretta. Beh, vabbè, vabbè. Vieni un po' prima. Sì, vieni un po' prima col PM, eh, ma raccomando. Porto tutta la corte d'appello. Vattene, vabbè, vabbè. Così per non confondere le persone. Sì, sì, infatti. Vabbè che parli come un carbonaro. Eh? Perché io l'ho appena finito di mangiare. Vattene, vabbè, vattene, vabbè. V陣 di domani.